Quando lei racconta la storia di Dante, diciamo, la Divina Filmetta, si riesce a immedesimare la personalità? Io cerco di, quando cerco di spiegare i canti, cerco di comprendere, li rileggo, cerco di comprendere come e perché, perché il punto è questo qui, perché è molto sottile, quando lui scrive i canti non è che li scrive solo perché ha letto, ti faccio un esempio, no ha letto perché dorme, ha letto perché ha letto tante cose, ti faccio un esempio, il primo canto dell'Inferno, secondo me lui si trova in una selva oscura, perché quando inizia a scrivere la Divina Commedia, per ditti, l'idea mia, era qui in Casentini. Considera che non c'era la luce che c'era oggi, si andava con le candele, si andava con il tempo solare e cosa succede? Che quando te esci, cioè te considera la città, era Firenze, c'era le mura e andava con il sole, la mattina t'alzi, fai le due cose, c'era le campane, quando si chiudeva le porte al tramonto, chi era fuori stava fuori, chi era dentro stava dentro, te pensa che lui aveva una logica che cercava di spiegare come un medievale le cose che vedeva. Quando venne esiliato e mandato fuori, lui vedeva cose che non riusciva a spiegarsi con la logica cittadina. Infatti quando dice mi trovo una selva oscura, magari era qui in Casentino, ai buio, prima di arrivare a un castello, e trova tre animali, che poi può essere vero o no, ora sai, il leone lo conoscevano, il ghepardo no, il ghepardo fu, pensa come successe che lui ha messo il ghepardo, una divina commedia, che a Firenze venne dall'Oriente un ospite e portò con sé, per fare omaggio e far vedere, degli animali dall'est. E in una gabbia c'era questo ghepardo. Lui rimane salmente colpito che dice Madonna. E dopo, quando o nel sogno o nell'opera che scrive, unisce che cosa? Un'esperienza diretta, vissuta, a una lettura, a un impatto del momento. E quindi quando scrive la commedia, e io cerco di medesimarti, non devo solo pensare a quello che ha letto, ma anche a quello che ha vissuto nel momento e come l'ha messo in rima. Ed è per questo che c'è tantissime interpretazioni, perché uno può spiegare la battaglia di Campaldino dicendoti, ah, se io te la racconto, te la posso raccontare della dinamica militare, per come era il discorso militare nel Medioevo, te la posso raccontare secondo i Chibellini, secondo i Guelfi, secondo Dante stesso che lì ha rischiato la vita che però non è morto, perché se no la commedia non arrivava. E quindi dopo occorre andare a cercare tutte le fonti, leggerle, e dopo raccontarle alla maniera che vuoi te. Cioè la cosa che io vi invito è che io lo racconto così, col vestito, ma perché ho fatto così. Ognuno di voi può leggerlo e raccontarlo nella propria forma, ed è quella la grandezza. Riuscire a avere l'informazione e trasformarla in conoscenza. La conoscenza è quando te, avendo studiato una cosa, la senti talmente tua che fa parte di te. E non perché sia sbagliato, è giusto, perché te quando te lo porti, cioè io ti racconto il canto di Buon Conte, lo sento come, quando io vivo in Spagna, la mia ragazza è spagnola, e poi vado in giro per il mondo. Quando mi dicono Buon Conte, io mi sento che racconto la mia terra, ma perché sono stato lì, ho visto l'Archiano, a Poppi, di qua e di là, e dico, io devo raccontare la mia terra. Poi te può venire o non può venire? Cioè nel senso, per l'amore e piacere di quella che è la mia terra. Quella cosa che voglio cercare di trasmettermi e che vorrei con il cammino fare in modo, di unire all'esperienza diretta del camminatore, interdisciplinare, Dante, ma piuttosto andare a vedere come si fa il tessuto casentino, le patate rosse di scetica, il miele, interdisciplinare, più discipline unite nell'esperienza diretta. Ed è la cosa che invito anche a voi, e che se vi capita, o la maestra Elisa, un altro momento, se capita di andare anche un'altra volta a fare un ucciso tutti insieme, io sono contento perché vi vedo che siete, oltre che molto attenti, anche preparati e con voglia. Spero di aver risposto alla tua domanda. Grazie. Grazie.